Affidati da parte del Presidente della Provincia Elio Moretti, gli incarichi ai nuovi consiglieri. Si tratta di Franco Angelini a Turismo e Sport, Maria Cristina Bertarelli a Istruzione e Formazione, Sonia Claudia Bombardieri, Frontallerato e Migrazione e Progetti Europei, Omar Iacomella a Cultura ed Identità Locale, Maurizio Papini ai Lavori Pubblici, Alessandro Pedrini a Pianificazione Territoriale, Olimpia di 2026 e Grandi Eventi Sportivi, Roberta Songini ad Agricoltura e Pari Opportunità, Maria Elisa Stoppani alle Politiche Sociali e del Lavoro, Giuseppe Tarabini allo Statuto, Alan Valinetti ai Rapporti Istituzionali, Società Partecipate e Polizia Provinciale. Restano in capo al Presidente Moretti le deleghe a bilancio, affari istituzionali, personali e controllo di gestione, politiche di coordinamento dei servizi sanitari, ambiente, cave, aree protette, caccia e pesca, protezione civile, energie e risorse idriche, sistema informativo. Il confronto interno è stato proficuo, afferma Moretti. Sono certo che lavoreremo in sinergia per raggiungere gli obiettivi prefissati, anche in vista degli appuntamenti straordinari e internazionali, che rappresentano una grande sfida per il nostro territorio.